Savona doveva essere decisiva e alla fine lo è stata. Il prato del Valerio Bacci Galupo e il tappeto rosso sul quale va in scena l'ennesima meraviglia di un teramo che con 90 minuti di anticipo si prende per la prima volta nella sua storia alla Serie B. Ai quasi mille tifosi biancorossi arrivati in Liguria e ai tanti rimasti in città per seguire la gara sui maxi schermi basta aspettare poco, pochissimo per urlare al cero la propria gioia. Al sesto minuto infatti il piazzato di Lappadula rimpalla sulla difesa bianco e blu. L'esterno di Alessandro Di Paolo Antonio però è ferale, Rossini si arrende e per il numero 7 Teramano Doc è il coronamento di un sogno. Quello di un'intera città invece dovrà ancora attendere poco meno di due ore. Il Savona di Riolfo infatti almeno per quanto proposto al cospetto della capolista non sembra meritare l'attuale posizione in classifica. La sventola di carta esce ma non di molto. De Martis chiama tonti all'intervento in due tempi ma il Teramo soffre. Vivarini non è contento della sua squadra, troppo allungata, che perde spesso e volentieri le distanze giuste e a cui serve un regalo come quello di Galimberti per mettere Donnarumma tu per tu con Rossini ma il lobby è alto di poco. Stesso cliché nella ripresa. Il Savona manovra meglio del Teramo ma lo spessore della capolista lo si vede nel momento topico, quello cruciale, come è stato per tutta la stagione. Quando le cose diventano complicate, d'incanto i due fenomeni lì davanti si accendono. Donnarumma stavolta fa da rifinitore il tocco di Gianluca Lapadula, 21 centri, come il compagno di squadra, entrambi capocannonieri del girone B, mette di fatto la parola fine alla gara ed è lascia passare per un traguardo storico, insperato fino a qualche mese fa. Che il Teramo però ha costruito con sudore e con fatica, proponendosi con l'umiltà della squadra che non aveva grandi obiettivi alla vigilia, ma con la sfrontatezza di chi settimana dopo settimana ha capito il proprio valore. 74 punti non arrivano a caso, la serie B nemmeno. Vivarini a pochi secondi dal triplice fischio di Guccini si lascia andare ad un sorriso che sa di liberazione. Un giorno, sui libri di storia del calcio Terramano ci sarà l'11 della stagione 2014-2015. La classe operaia va in paradiso, quello del secondo campionato nazionale, per ribadire ancora una volta che per fortuna il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta. Per un'ordine! Per un'ordine!